Musica Ed ecco il primo volontario di essere arrivato questa mattina per aiutare Cosa ti aspetti della giornata? Guarda, non è una novità dire che quando Carlo si muove per organizzare degli eventi soprattutto come questo per i bambini siamo già in un punto di partenza che non ha i guali e poi la Sombolo Pallavolo insieme a te sappiamo che è sempre realizzato i sogni di tutti i bambini di tutti i genitori, ovvero quello di stare comodi in tribuna a godirci lo spettacolo perché come al solito il mini volley a Sombolo ci ha sempre portato grandissime soddisfazioni Una domanda allora più a livello personale che goduria è sentire tutti i complimenti per il tricolore che è fortemente voluto al centro del campo? Diciamo che alla fine questo è stato uno dei primi, forse il primo in Italia su parquet però al di là di questa battuta è bello sapere che di Sombolo si parla magari anche per questo purtroppo a volte si parla anche di cose poco piacevoli e sapere che magari lo sport può essere un veicolo, un'opportunità per parlare bene di Sombolo è certamente una bella cosa Grazie mille Grazie a te Carlo